Sono ancora da ricostruire da parte degli investigatori le circostanze di un ferimento di un uomo di 30 anni che nella serata di venerdì 24 maggio, poco dopo le 23, si è presentato al pronto soccorso dell'ospedale Perrino di Brindisi con ferite d'arma da taglio a braccia e gambe. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe stato accoltellato per strada, ma pare che al momento non abbia fornito ulteriori informazioni alle forze dell'ordine, tanto che restano ignote le circostanze e i motivi del ferimento. L'uomo ha subito danni ad un tendinelle, nelle prossime ore sarà sottoposto all'intervento chirurgico. Intanto gli agenti della sezione volante della questura di Brindisi e i colleghi della squadra mobile giunti in ospedale, alertati dai sanitari poco dopo l'arrivo del ferito, sono a lavoro per ricostruire l'accaduto.